Il dottor Guido Salvini è giudice presso il Tribunale di Milano. Qual è il suo ricordo del professor Galli? Io ho un ricordo duplice del professor Galli. Di lui come docente universitario, era docente di criminologia, con le sue lezioni che trattavano la devianza giovanile, i problemi penitenziari, i problemi della droga, interessava moltissimo gli studenti, le lezioni erano molto frequentate e io proprio lo ricordo personalmente all'università il fatto che teneva lezioni non baronali o professorali, ma girava tra i banchi sempre cordiale e sorridente, poneva domande agli studenti, suscitava il dibattito ed era un docente della facoltà di giurisprudenza di Milano veramente molto amato. Qual è il ricordo che l'ha lasciato come giudice? Come magistrato ha avuto il merito di impegnarsi nelle indagini sul terrorismo a Milano, un impegno che altri magistrati, essendo molto pericoloso all'epoca, avevano preferito declinare e che ha portato avanti con rigore e con fermezza, ma nello stesso tempo con una volontà di non superare quelle limitazioni alla libertà personale oltre le quali non si può andare. Cioè era un magistrato garantista e che non intendeva fino in fondo condividere quelle che in quella fase erano le cosiddette leggi speciali o eccezionali.